Chissà qual è il nostro ruolo principale della vita, il lavoro, l'hobby, la famiglia, forse altre cose. Ma guardate, oggi Gesù ci fa vedere il suo compito principale, è quello di perdonare, perdonare a ciascuno di noi. Guardate, il cammino dell'Avento è una grande attesa di Gesù che vuole essere presente in mezzo a noi, di Gesù che vuole nascere nella mia famiglia, Gesù che vuole nascere nel mio cuore. Ho saputo Gesù che mi aspetta per poter perdonarmi. Cosa? Tutto quello che vogliamo noi. Dove noi ci inginocchiamo diciamo Gesù aiutami. E guardate, Gesù lo fa. L'Avento, il tempo dell'attesa del perdono. Però dipende da ciascuno di noi. Buona seconda settimana dell'Avento. Grazie a tutti.